Si chiamava signora Vanda, questa anziana nonna di Giorgia, morta già non c'è più, aveva quasi 90 anni, caduta mentre parlava con figlia al telefono. Questa bella morte, forse ha avuto infarto. Guarda che c'è, vuoi tornare? Dove andiamo? Brava, andiamo ancora avanti. Quasi 90 anni, mentre parlava il telefono è caduta e è morta. E così, questa bella morte, arrivare a 90 anni e cadere così. Aveva un po' di pressione, un po' di mensa senile ha avuto, atto sufficiente, è stata fino ultimo. Lei dopo ha avuto badante che veniva, una Moldava mi sembra, che veniva 4 o 3 ore solo di mattina e basta. E questi sono i miei belli ricordi di mia babysitter, quando ho fatto babysitter al mare.